Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. La PM della Procura per i minorenni, durante una conferenza stampa, ha spiegato che Riccardo Chiaroni, detenuto per il triplice omicidio familiare da lui commesso, non riesce a darsi una spiegazione. Pur essendo consapevole che non si può tornare indietro, al momento non esiste un movente giuridicamente definito, ma le indagini sono in corso. È necessario ricostruire con precisione gli eventi di quella tragica sera. E comprendere cosa abbia scatenato l'azione del diciassettenne, avvenuta la notte successiva alla celebrazione del 51esimo compleanno del padre Fabio, mentre gli investigatori continuano il loro lavoro senza sosta. I nonni di Riccardo hanno preso una decisione significativa, che ha diviso l'opinione pubblica. Alcuni la sostengono pienamente, immedesimandosi in loro, mentre altri la considerano inaccettabile. I nonni hanno infatti dichiarato di voler incontrare il nipote, di proteggerlo e di cercare di capire cosa sia realmente accaduto quella terribile notte. Anche gli zii condividono la stessa posizione, cercando di tutelare il ragazzo dall'esterno. Va ricordato che la sera prima della strage di Paderno Dugnano, l'atmosfera era diversa a causa dei festeggiamenti per il compleanno di Fabio, imprenditore edile.